Cara Anna Maria, oggi torna a occuparsi di salute e di bellezza. Molti guardandosi allo specchio non accettano il proprio naso, molti respirano male e magari non affrontano per paura nessun tipo di risoluzione che possa essere magari anche semplicemente una visita per capire come comportarsi. Allora, premettendo che bisogna avere dei professionisti di eccellente livello a cui rivolgersi e su cui basare la propria fiducia, noi siamo andati a visitare un centro molto serio e che qui vicino a Careggi ha molto successo. È il Florence Medical Center dove soprattutto ci interessa andare a intervistare il dottor Domenico Valente. Perché il dottor Valente? Perché ha lavorato tanto in un settore che è quello che è poi la sua specializzazione della chirurgia maxillo-facciale e della traumatologia e anche poi ovviamente parlando di viso della medicina estetica. Allora, dottor Valente, siamo qui da lei. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Perché molti appunto non accettano il proprio naso e lei che di nasi ne ha visti tanti e tanti ne modifica, ci vuole raccontare il tipo di approccio diverso del paziente alla ricerca di una perfezione estetica e quando invece bisognerebbe porre più l'accento su quelli che sono dei piccoli malesseri che in realtà si possono curare tranquillamente attraverso anche tecniche nuove come quelle di cui ci parlerà. Ha detto bene. Allora, solitamente l'approccio che si ha è riferito a due tipi di pazienti. Quindi il paziente che si rivolge allo specialista perché ha un deficit estetico, quindi un deficit da voler risolvere, e un tipo di paziente che invece ha un problema di tipo funzionale respiratorio. In quel caso i due approcci possono cambiare. E' chiaro che la persona che respira male e che vorrebbe anche migliorare la parte funzionale molte volte non preclude, non esclude quindi di correggere anche la parte estetica. Abbiamo quindi di fronte due tipi di pazienti. E' chiaro che il paziente tipico è la paziente donna con magari la gobetta, con un piccolo deficit funzionale che quindi si presenta alla nostra attenzione per risolvere entrambe. Quindi queste sono un po' le pazienti tipo che si rivolgono a noi. E' chiaro che è molto diffuso in questo periodo anche l'approccio non chirurgico, quindi per i lievi difetti del giibo nasale che alterano magari il profilo, abbiamo soluzioni non invasive che vengono chiamate rinofillere, di cui magari potremmo anche approfondire. Però in linea di massima ci sono pazienti che hanno deficit funzionali, pazienti deficit estetici, pazienti che li hanno entrambi. Quindi noi li approcciamo tutti e tre. Ecco però l'operazione al setto nasale è un qualche cosa che ha sempre spaventato molto perché il decorso talvolta post operatorio, almeno anche negli anni in cui sentivo parlare di correzioni di naso, era un approccio abbastanza brutto nel senso che uno si vede molto gonfio, le occhiaie rosse e quindi c'è un po' di paura ad affrontare questo tipo di operazione. In questi anni immagino che tanto si sia fatto e quindi la tecnologia abbia permesso poi di avere tutto più lieve, più semplice. Questo è vero, questo è vero perché le tecniche per fortuna sono molto migliorate. Siamo diventati mini-invasivi, diciamo così, nell'approccio all'intervento nasale. Questo consente ai pazienti di recuperare veramente in fretta, quindi dopo un intervento chirurgico. Grazie a un'equip che ci segue, quindi a partire dall'anestesista, quindi da un'anestesia che consente una ripresa rapida e che consente di fare l'intervento al mattino e di essere già a casa in tardo pomeriggio. Abbiamo poi migliorato anche la parte, diciamo, dei famosi tamponi che nel nostro approccio sono stati totalmente esclusi e non vengono utilizzati e sono stati sostituiti con una tecnica particolare di sutura che consente di evitare totalmente i tamponi e quindi anche lì il recupero è molto più rapido e si toglie un pensiero che attanagliava tutti i pazienti che volevano sottoporsi all'intervento chirurgico di rinossettoplastica. Oltretutto abbiamo migliorato anche le tecniche, diciamo, di osteotomia, quindi le famose martello e scarpello che anche lì molte volte potevano dare la sensazione di paura nei pazienti. Noi l'abbiamo sostituito utilizzando anche dei particolari macchinari, delle particolari lame piezoelettriche che consentono di ridurre al massimo il traumatismo, quindi anche i lividi e tutte queste cose messe insieme fanno sì che il paziente la sera sia già bello, attivo a casa con un recupero molto rapido, di solito che va in 7-14 giorni. Ecco, quindi praticamente vedete affrontare un'operazione del genere, sia che si faccia per risolvere un problema, sia per essere, per correggere ed essere più belli, alla fine è banalmente un'operazione, non voglio dire di routine, ma comunque che non ha troppe complicazioni, anche perché un tempo veramente mi ricordo che bastava toccare il naso delle persone che avevano subito l'intervento e si vedevano delle persone che saltare in aria e strillare. A questo punto però io vorrei sapere, abbiamo parlato di filler e di soluzioni che quindi sono un attimino più semplici, bisogna distinguere la finalità, nel senso con i filler che cosa si può curare, un guarido modificare? Allora, l'approccio con il filler è prettamente un approccio estetico, non va assolutamente a migliorare o a variare la funzionalità respiratoria, quindi è un approccio che può essere applicato esclusivamente a nasi non proiettati, quindi a nasi piccoli che presentano un gip oppure una punta tendente verso il basso e con il rinofiller riusciamo a assicurare un profilo più armonico e a sollevare leggermente la punta. Naturalmente il rinofiller funziona solo sul profilo e funziona esclusivamente dal punto di vista estetico, quindi ripeto non funzionale, assolutamente no. È chiaro che sui teenager questo approccio è quello più diffuso sia per questioni economiche sia per questioni soprattutto di paura nel volersi sottoporre a un intervento definitivo, ma può essere un primo approccio per migliorare i nasi a cui il rinofiller può essere applicato. Ecco, mi scusi dottore, proprio il problema dei giovani, molte volte i giovani fanno veramente fatica a piacersi e quindi magari focalizzano sul naso le loro proprio inquietudini, ma secondo lei esiste un'età giusta con la quale ci si può rapportare oppure è meglio diventare adulti e lasciare che tutto questo disagio magari possa anche alla fine decrescere o annullarsi del tutto? Sicuramente negli ultimi anni lo sviluppo dei social network, quindi di Snapchat e altri sistemi di filtri e di foto fa sì che i teenager siano molto più attenti all'aspetto estetico e venga più evidenziato un eventuale difetto del viso o del naso nello specifico. È chiaro che l'intervento chirurgico è indicato nei casi di over 18, quindi dai 18 anni in su, anche se ci sono casi di traumi importanti, quindi che provocano nei adolescenti o comunque nei ragazzi, delle deviazioni della piramide nasale oppure comunque delle deformità del naso in generale che possono condizionare la crescita, quindi lo sviluppo anche psicologico perché magari il difetto è così ben visibile da creare anche situazioni di non accettazione, di bullismo e così via. È chiaro che quindi in quel caso con il consenso dei genitori si può anche intervenire naturalmente sui under 18, in linea di massima però sui maggiorenni. Ecco perché la lunga esperienza del dottore in traumatologia può veramente permettere di dare questa interpretazione e cioè i ragazzi che molte volte si fanno male seriamente per incidenti, per cadute ma anche fin da piccoli non hanno soltanto un disagio estetico ma hanno anche proprio un disagio che il setto nasale modificato crea a livello anche normale di attività quotidiane, normali, quale anche la respirazione notturna per esempio. Quindi mi racconti però quali sono le patologie, quelle più semplici per le quali, io ho sentito parlare dei turbinati, adenoidi, per le quali forse è necessario rivolgersi a un medico specializzato. Il russamento e l'apnea notturne sono una delle patologie che seguiamo di routine soprattutto nell'adulto, un po' sovrappeso, quindi è la patologia tipica delle persone soprattutto degli uomini. È chiaro che la patologia deve essere assolutamente diagnosticata quindi con una serie di esami come una slip endoscopy, un attack del massiccio facciale una visita naturalmente infibroscopica e a quel punto ho trovato fatta la diagnosi, ci sono una serie di indicazioni e di interventi che aiutano a respirare meglio il paziente e quindi a dormire e riposare meglio evitando quindi problematiche successive cardiovascolari. Tra questi interventi sicuramente c'è una settoplastica, l'eventuale riduzione dell'ipertrofia dei turbinati e risolvere queste problematiche già di per sé aiuta le prime vie respiratorie ad avere un flusso aereo normale e quindi a riposare meglio la notte. È chiaro che ci sono tantissime altre cose sulle apnea notturne quindi che si possono fare con l'ausilio di bite, di propulsione mandibolare, altri interventi di avanzamento mascellare mandibolare, velofaringoplastiche, quindi bisogna un attimo individuare il paziente ma c'è una soluzione e deve essere risolto il problema proprio per evitare problemi futuri cardiovascolari più seri. Infatti respirare bene attraverso il naso è forse uno dei nostri compiti più importanti e che talvolta sottovalutiamo. Adesso con l'uso continuativo della mascherina ci siamo accorti di quanto respirare bene sia veramente fondamentale. È un atto così che noi non ci accorgiamo di fare in un certo modo ma che è importantissimo invece ascoltare. Un'ultima cosa per quanto riguarda i bambini invece il respirare più o meno con la bocca invece che con il naso necessita fin da piccoli di un approfondimento oppure non importa e bisogna lasciar crescere? In linea di massima sì, può essere studiato però trattamenti chirurgici importanti sul setto, sui turbinati o qualcosa di più importante viene tralasciato dopo i 18 anni. Nella fase iniziale se c'è una problematica seria quindi di respiratoria allora in quel caso deve essere affrontata così come quando c'è un problema respiratorio importante è chiaro che il bambino deve essere trattato. Dottore un'ultima cosa, quella che non volevo chiedere, ma allora si sente molto male o no? Assolutamente no, nel senso assolutamente no. La maggior parte dei pazienti che affronta questo intervento, l'esclamazione tipica è se avessi saputo che l'intervento e il post-intervento era di questa portata l'avrei affrontato molto prima, quindi a dir loro no, è un timore infondato. Ecco questo è molto importante, ma è molto importante rivolgersi al medico giusto perché in questo periodo in cui abbiamo tutti specialisti, specialisti in tutto, in realtà l'equilibrio del nostro volto, la salute anche che ne consegue per una respirazione giusta, un naso bello significa anche controllare per esempio la chiusura macellare, controllare tutta una serie di cose che per esempio il dottore proprio con la sua specializzazione riesce a fare con un solo occhio. Quindi se cara Anna Maria continua ad andare da medici illustri, alla fine dovrà presentarsi sempre solo con la mascherina. Io vi ringrazio tanto dell'attenzione e vi ricordo quindi di non sottovalutare mai i rischi che si possono avere non respirando bene, di controllarsi, volersi anche bene, non esagerare, ma soprattutto avere una persona che ti consiglia nel modo più serio. Arrivederci a tutti e come al solito appuntamento, al solito orario, tutti i giorni insieme a voi. Grazie dottor Valente. Grazie a lei e buona giornata.